un parlamento così pieno di persone di mezze calzette, di persone di livello culturale molto basso e ma intanto per colpa loro, la legge porcata di Calderoli in cui sono partiti a mettere in lista le persone da eleggere, noi non abbiamo più nessuna voce in capitolo noi elettori e naturalmente dipende dai partiti di mettere in lista gente valida o dei fedeli servitori e nel PDL purtroppo c'è una schiera di fedeli servitori, più scodinzolano e più si mettono in lista.